Ma c'è la staccata da brivido di Gianluca Nannelli, secondo, davanti a Charpentier, incredibile, il recupero nel lungo rettilineo, Nannelli, secondo, davanti al leader, Charpentier, gara strepitosa di Gianluca Nannelli. Si va in pieno, quarta, quinta in uscita, sesta davanti ai boxers, non ci sta, Charpentier, grandissimo lavoro del team e va all'attacco per la violentissima frenata, mette in crisi la ciclisica del primo Gianluca Nannelli, al terzo giro, un italiano per la prima volta quest'anno, primo nel mondiale Supersport. Attenzione, incredibile staccata alla Scari, Gianluca davanti a Fugilara. Grintosissimo il Toscano, sta prendendo le misure, stile cross, via sul cordolo, si spara nel rettilineo che va alla staccata della parabolica. Eccolo qui, Trivonzo, Triprudio, un terzo posto che va alla vittoria, questo è Stefano Caracchi, addirittura Paolo Ciabatti, responsabile di Superbike e Supersport, in seno alla Ducati, corse, che va a fare complimenti a questo formidabile talento, il pilota del Valdano, dice mannaggia ha fatto quell'errore, magari non ha detto proprio mannaggia, in Toscana avrà detto qualcos'altro di sicuro, però bravo, è provato, fisicamente abbiamo visto che faccia, che espressione.